L'evoluzione dell'entertainment al tempo della multimedialità, una creatività a più dimensioni che sia lo smart investment tra CGI, computer generated imagery e 3D. Ai nostri microfoni Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo Rainbow, presidente di Colorado Film, leader globale dell'intrattenimento sempre più in espansione. DNA di rivoluzione, di successo planetario al battito delle Winx, capolavoro d'animazione made in Italy dal genio di Straffi, che ha usato immaginare le prime eroine rigorosamente al femminile, oramai maggiorenni, record assoluto anche nella serie live action di Netflix Originals, ad incantare 200 milioni di persone in oltre 50 lingue in più di 150 paesi nel mondo. Da un mini studio di animazione nato per una pazzia in società con un prete tra le colline di Loreto nelle Marche ad una content company di respiro globale da 85 milioni di euro, protagonista dalla produzione alla creazione alla commercializzazione con anche un record di licenze al mondo, passando per i progetti editori sino al talent scouting. Il DNA di innovazione del gruppo Rainbow consiste nell'andare sempre oltre, usare sempre di più, facendo dell'immaginazione una rivoluzione. Ce ne parli lei a partire dal nome, come le è venuto in mente Rainbow? Il nome nasce dall'idea di qualcosa di positivo, di colorato, come erano appunto le nostre idee di cartoni animati all'inizio e che fosse un messaggio appunto di speranza, cioè l'arcobaleno esce nel momento in cui il sole fa capolino tra le nubi e quindi è sicuramente qualcosa di oltre di colorato, di magico, ma anche di positivo appunto, che dopo tutto il grigio della pioggia arriva il colore, il movimento dell'arcobaleno. Che cosa rappresenta per il vostro gruppo l'acquisizione del 100% dell'italiana Colorado film, eccellenza del cinema di genere così come delle produzioni tv e di intrattenimento? Abbiamo deciso di acquisire la Colorado mai sei anni fa perché eravamo ad un bivio o iniziare ad assumere personale e formarlo per le produzioni live action, quindi con attori dal vero, oppure appunto acquisire una società già strutturata e già ben organizzata come la Colorado per essere anche più veloci e dinamici nel fornire questi contenuti al mercato che ne stava appunto facendo richiesta sempre maggiore. Abbiamo optato per questa seconda scelta perché appunto avevamo bisogno di correre come corrono i nostri tempi, come lei sa, e quindi non volevamo perdere la sfida di creare un gruppo globale che possa fornire contenuti alle emittenti, alle piattaforme dal prescolare agli adulti. Ecco, parlando del sistema, che cosa manca secondo lei al nostro sistema anche nell'ambito dell'audiovisivo che lei riuscirà a risolvere così che l'Italia smetta di essere in balia dello shopping di gruppi stranieri per il suo know-how? Guardi, io penso ormai da qualche anno che in Italia manchi un gruppo che faccia contenuti, che abbia un peso. Peso significa politico ma anche a livello commerciale con la controparte di studios americani o orientali. Per farciò bisognerebbe avere un aggregatore, come dico sempre qualcuno che possa essere capofila e mettere insieme alcune altre eccellenze che il paese ha e formare un gruppo che abbia un fatturato, un peso specifico un po' più importante di quello che abbiamo noi o altri studi e produttori italiani indipendenti in questo momento. Il presidente dell'Unione Editori Audiovisivi, James Ordanza, ritiene che sia fondamentale utilizzare i contenuti in modo intelligente così che la sala cinematografica e lo streaming si sostengano a vicenda. Considerato che il cinema italiano al box office è quello un po' più in sofferenza con un meno 7% del 2021, che cosa ne pensa lei? Io credo che bisogna ripensare un po' per riorganizzare le produzioni, cioè ci sono un certo tipo di film che ormai è chiaro non riescono ad essere più attrattivi per chi deve uscire di casa e spendere 8-10 euro, quello che sia, per il biglietto e vedere lo spettacolo in sale che tra l'altro non sono nemmeno molto accoglienti come ci sono all'estero, sono pochi cinema italiani che si sono veramente rinnovati in termini di comfort e di fruibilità proprio dello spettacolo. E quindi ecco questi film ormai vengono penalizzati perché siamo abituati dal lockdown in poi a vedere questo tipo di spettacolo sulle piattaforme. Perciò secondo me per il cinema andrebbero creati dei contenuti che abbiano delle caratteristiche diverse, non dico di poter competere con gli americani e creare solo dei colossal, ma comunque che ci siano degli ingredienti, delle peculiarità che si possono godere appieno soltanto sul grande schermo. Sappiamo tutti quanto i film influenzino l'inconscio collettivo dei bambini e è lei che ha preso questa responsabilità con così grande piacere e passione. Quando crea le sue storie, come le immagina affinché influiscono sull'inconscio a favore delle nuove generazioni? Noi ci siamo sempre posti questo tema della responsabilità di raccontare storie, dare messaggi, esempi, creare eroi, modelli che abbiano determinate caratteristiche positive, educative, una parola grande, però quantomeno portare i bambini a capire che c'è una natura, un messaggio ecologico, quindi un pianeta da rispettare, c'è una solidarietà che bisogna esprimere per chi è stato più sfortunato di noi, perché spesso è soltanto una discriminazione che avviene alla nascita, chi nasce in una famiglia o in un paese o in un altro, quindi non è un po' una lotteria, quindi bisogna far capire ai ragazzi di oggi che la solidarietà è importante perché non tutti hanno avuto le stesse possibilità che abbiamo avuto noi. Poi tantissimi altri messaggi dell'onestà e dell'educazione, insomma cose che secondo noi sono importanti per cercare nel nostro piccolo di creare una società migliore partendo dai bambini. Ecco, parlando di messaggi, mi chiedo, non deve essere facile per una genialità come la sua che riesce ad arrivare a milioni di persone, oltre 50 lingue nel mondo, più di 150 paesi appunto al mondo, a garantire, ad essere certi che il messaggio positivo sia recepito da tutti come tale e non da alcuni magari negativo, così come può accadere con un messaggio genitoriale che ad alcuni può arrivare positivo, ma ad altri invece non necessariamente così. Beh, nei nostri cartoni, diciamo, se parliamo di quelli, il messaggio è abbastanza diretto, è abbastanza ovvio da quello che succede nella storia, che se si prende una strada, diciamo, di egoismo o di sgambetto verso l'avversario, diciamo così, poi alla fine non si vince, ma si rimane soli e perdenti, mentre chi invece unisce le proprie forze e si sforza di arrivare al risultato in maniera onesta, alla fine raccoglie i frutti anche di una fatica che ha svolto, quindi, diciamo, è difficile pivocare un cartone quando lo fa in maniera così disascalica il racconto, ecco. Ho capito che il mondo è donna, sue parole, mi permetto allora di chiedere io a lei, che è un leader illuminato alla guida di un gruppo al femminile, inclusa sua moglie Madame Li, che è padre di tre figlie femmine e delle Winx, artefici sin dal nome Fate del loro fato destino, ha in mente una nuova storia che possa ispirare le donne del domani verso una consapevolezza sempre più ampia, così che sappiano ed imparino a rafforzare, a potenziare soprattutto il loro lato femminile, per così dire lo Ying, piuttosto che il loro lato maschile lo Yang, pur sempre dando valore agli uomini. Ne avrei di storie, sarei felice e onorato di poterle raccontare alle donne di domani, il problema è che in questo momento andiamo un po' a scalare una montagna perché, diciamo, rappresentare una donna femminile si fa fatica in una storia perché, insomma, la donna poi alla fine la stanno sempre rendendo più simile all'uomo in certe cose che non a queste che vengono forse percepite come dei vezzi o delle cose antiche che venivano appunto la cura della propria immagine, dell'abbigliamento e quant'altro. Sarebbe interessante se soprattutto in Italia e in Europa si riuscisse un pochettino a creare una controcultura perché sicuramente è molto più bello che le donne possano ottenere e arrivare a certi traguardi mantenendo integra la loro differenza dagli uomini o la loro femminilità che è un grande valore e non certamente un handicap. Non le racconto un'altra cosa, noi ci siamo tolti delle belle soddisfazioni perché vent'anni fa rappresentare le Wings, un universo di eroi maschili, sicuramente è stata una grande innovazione che ora ci viene riconosciuta. Abbiamo creato un gruppo multietnico per cui siamo stati anche lì precursori dei tempi avendo una ragazza, una fata per ogni etnia, abbiamo dato questa importanza alla donna che è sicuramente capace di essere artefice del proprio destino e non in balia di qualche principe azzurro e tantissime altre cose. Quindi tutto da scoprire questa nuova storia che potrebbe avere. Dalla prima e unica scuola italiana di digital entertainment, la vostra Rainbow Academy, passando per la Liberi Reggio Monte International School, ben oltre il format classico delle scuole aziendali con un metodo all'avanguardia a 360 gradi che sarebbe da estendere a tutto il paese, perché no, sino alla Poliarte di Ancona, eccellenza di design, ricerca ed innovazione. Il cammino del Rainbow sembra sempre più nella direzione dell'educational. Ce ne parli lei? Tanto l'educational è qualcosa, come dicevamo prima, che ci appartiene perché raccontando storie ai bambini ci siamo posti il problema di raccontare storie che abbiano un valore educativo in qualche modo. Poi però è anche vero che in Italia c'è tantissimo da fare nel settore dell'educazione perché secondo me siamo indietro rispetto ad altri paesi nel poter creare dei luoghi dove i bambini imparino divertendosi con la creatività senza avere appunto la noia che avevamo noi di dover studiare in una determinata maniera e poi aprendosi a tante le materie, dei contenuti che nelle scuole italiane magari sono ancora poco praticati. Green è decisamente la parola d'ordine, quasi parola magica nel bordo di qualsiasi ambito, dal business alla cultura. In che modo sente che la vostra visione possa fare la differenza in questo senso e come? Quali progetti hai in mente nello specifico? Noi siamo stati sempre, dalle storie a quando abbiamo progettato questo edificio dove siamo, molto attenti all'ambiente e quindi qui per esempio ci siamo dotati di geotermico e fotovoltaico per creare energia e autosufficienza a tutta la struttura, però in generale come ripeto è qualcosa che andrebbe esteso a tutti i livelli, quasi appunto insegnato nelle scuole perché lo vediamo sotto i nostri occhi che questo pianeta è in sofferenza e tutto questo sta diventando di attualità sempre di più, però credo che ci sia ancora tanto da fare e noi sicuramente siamo sempre in prima linea per quanto riguarda qualsiasi iniziativa che riguardi soprattutto la società, i giovani, dove si possa diffondere la cultura ambientalista. Se le dico piazza affari, lei cosa mi dice? Dico che è un posto dove si potrebbe costruire un bel progetto di crescita, magari simile a quello di cui le parlavo prima o alternativo a quello di prima, però ecco è anche un posto, diciamo, da quel poco che abbiamo potuto vedere noi dove l'industria dell'intrattenimento, insomma quella nostra, dello spettacolo, insomma della culturale come viene chiamato in Cina, non è così ben compresa come altre industrie più tradizionali che sono già stabilmente sui listini di piazza affari. Il maestro giapponese dell'animazione Hayao Miyazaki, già leone d'oro a Venezia, ama dire prima pensa e poi disegna. Che cosa risponde Gino Straffi? Dico che è una grande verità, insomma io non la conoscevo questa frase, però chi mi conosce sa che ogni volta dico che prima di mettersi all'opera su un nuovo progetto o su qualcosa bisogna pensare e studiar bene tutti i dettagli e tutte le varie sfaccettature che possono crearsi in questa realizzazione, quindi anche io mi identifico molto in questa frase perché se qualcuno mi chiede pure cosa pensi che sia la tua capacità maggiore nel sai disegnare, sai scrivere, sai vendere, sai immaginare, io dico sempre non lo so l'unica cosa che mi viene pensata è che appunto io rifletto molto, penso molto alle cose e le preparo, le studio, capisco magari dove può andare una certa direzione o un'altra in cui mando o una cosa commerciale o una storia e quindi diciamo che a Monte c'è un grandissimo pensiero, un grandissimo studio e anche scrittura, quando scrivo qualcosa analizzo qualunque elemento per creare dei personaggi, dei mondi che siano credibili perché se non ci sono tutte le interconnessioni tutte le relazioni, tutte le varie intrecci studiati bene, poi la storia non sta in piedi o rimane molto debole, non so come dire com'è. My mother disciplinas to creativity, parola del premio Oscar Ralph Fine, uno di cinque fratelli tutti di successo nell'ambito artistico, il quale ama raccontare che la loro mamma li ha disciplinate la creatività, lei che è cresciuto sentendosi dire dalla sua mamma che di fumetti non si vive, come la pensa oggi? Secondo me la mamma è stato un grande stimolo per me perché io ero convinto fin da piccolo di poter vivere diciamo scrivendo, disegnando, perché no anche un giorno realizzando dei film e lei chiaramente donna molto concreta nelle nostre terre, insomma vedeva molto più facile avere un impiego più normale come dire e quindi mi ha sempre sicuramente incoraggiato a seguire questa mia passione ma pensando intanto studia per fare il professore piuttosto che un'altra attrattività che sia più in linea con il mondo, con quello che lei conosceva e quindi io ho sempre lavorato molto e studiato molto invece per riuscire ad arrivare a pubblicare i miei fumetti, a realizzare qualcosa di quello che avevo in testa proprio per dimostrarle che invece si riesce anche a vivere e a creare ricchezza facendo un lavoro diverso da quelli che suggeriva lei. Oggi che persino un divo di Hollywood come Keanu Reeves sta cercando di realizzare il suo fumetto già in versione Netflix, qual è il fumetto dei desideri che Iginio Straffi vuole assolutamente creare, magari disegnandolo con le sue bambine, guardando la tv come faceva da piccino a fianco alla sua mamma che cuciva? Diciamo parecchi ne ho già realizzati di quelli che avevo nel, come si dice, nel mio cassetto e ora ne ho ancora alcune di storie in cui credo molto che vorrei realizzare nei prossimi anni, non sono fumetti, sono più film, sono più serie televisive perché chiaramente trovo il mezzo cinematografico e televisivo molto più diretto, completo e che raggiunge un pubblico più globale rispetto al fumetto che ahimè è diventato proprio un fenomeno di nicchia purtroppo per noi appassionati o per chi ama questo genere ma non è più come negli anni 70, 80 un fenomeno popolare. Se lo sogni lo puoi fare, questa è un po' la poetica di un altro grande visionario come lei, Mr. Walter Disney, allora le chiedo se Iginio Straffi aprisse il dizionario alla voce Rainbow, la sua Rainbow, che cosa vorrebbe che vi fosse scritto? Anche questa è una bella domanda, ma io diciamo mi identifico molto con tutti questi grandi, più grandi, molto più grandi di me del passato e sicuramente quello che forse resta di tutta questa storia è veramente questo sogno, questa grande passione da bambino che alla fine è riuscito anche a concretizzare in un paese non sicuramente dei più idonei per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, in una regione che non è neanche sicuramente capofile in Italia della cinematografia o della televisione, chiaramente ecco tutto questo alla fine resta quasi come quello di Disney, un sogno che si è riuscito a realizzare e quindi sarebbe bello comunque che anche in Italia, dato che questi esempi vengono sempre dall'estero, che si possa creare un po' questo sogno americano, questo modo di fare un po' più americano nei nostri ragazzi per cui invece si comincia a credere di più a quelli che sono i nostri desideri, i nostri sogni per potersi impegnare a fondo perché non è certo facile ma per poi alla fine arrivare a un certo punto, fermarsi e dire ah sono riuscito a fare quello che avevo sognato da bambino e questo è un messaggio che credo la Rembo abbia dato e possa restare. Lei stesso ha dichiarato che è la prova vivente che la televisione non rovini la creatività dei bambini, parlando proprio perché così ha iniziato se ricordo se so bene, disegnando, guardando la tv a fianco alla sua mamma. Ecco ma se guardiamo all'oggi a una certa attitudine al digitale, alla tecnologia, agli schermi che porta a fare sì che tutto sia o quasi tutto a portata di click sino quasi a annullarsi nell'oceano del metaverso, tutta altra storia rispetto al dolce naufragar all'orizzonte dell'infinito di un altro visionario marchigiano come lei vicino di colline Giacomo Leopardi, le chiedo che cosa significa immaginazione secondo i Gino Straffi oggi e come si fa per evitare che venga annullata? Ecco questo anche bellissime domande lei fa e tra l'altro vedo che ha letto molte delle interviste che ho fatto in passato, sì perché diciamo io sono cresciuto con la televisione sempre accesa come si usava una volta nelle case italiane e quindi mia madre che lavorava poco attenta insomma non si accorgeva a volte che era finita la tv dei ragazzi cominciavano le serie, i sceneggiati si chiamavano allora per grandi quindi ho visto anche da bambino queste storie che non erano magari scritte per bambini e quindi però dico sempre che tutto questo a me mi ha fatto un po' come Salgari che sognava queste avventure senza averle mai viste e c'era a me mi ha fatto sognare appunto l'avventura, questa grande parola magica che un altro maestro come Hugo Pratt ha sempre cercato nella sua vita e nei suoi racconti da cortomaltese in giù. Ecco l'avventura era qualcosa per noi importante da bambini che ci apriva la fantasia a questi mondi, a queste isole misteriose dove cercare tesori, pirati o quant'altro e così diciamo secondo me al sottoscritto si è sviluppato insieme alla lettura di tanti fumetti eccetera la fantasia e la voglia di creare personaggi, raccontare storie. Oggi non so diciamo secondo me certamente c'è un abuso rispetto comunque anche alla televisione che ti permetteva dei break per giocare o altre cose di quanto si consuma in video però io non riesco a rendermi conto quanto effettivamente possa essere negativo o positivo questo bombardamento di contenuti perché oramai i ragazzini sono bombardati, passano da una parte all'altra poi arriva una pubblicità di un'altra cosa, cliccano e vedono, vanno da tutta altra parte no? Sicuramente è molto passivo questa fruizione quindi non c'è nemmeno quella che per esempio un'altra cosa che non mi scorderò mai quando la domenica pomeriggio andavamo a vedere i film all'oratorio che era sempre o Bud Spencer, Terence Hill, Bruce Lee, tutte le avvento Zorro o quant'altro e ogni volta appena finito il film tutti i ragazzini o la scazzottata oppure saltavamo da un muro all'altro come Zorro o quell'altro così perché uno copiava, emulava, volevi vivere questa storia. Adesso francamente li vedo molto più passivi certamente questi ragazzi che guardano in continuazione queste cose passano da un genere all'altro ma non hanno questa fantasia di rivivere il sogno, il mondo, l'avventura che hanno visto al cinema quindi vedremo cosa sarà l'immaginario collettivo di queste nuove generazioni tra una decina d'anni da quello che riusciranno a tirar fuori come contenuti. Quello che ho osservato, non voglio essere troppo lungo ora però, è che le produzioni che hanno grosso interesse nei ragazzi young adult di oggi chiamiamoli così sono molto violente e quindi non vorrei che venga da questo anche cultura del videogioco dove si deve sparare a qualunque cosa si muova, non lo so. Io vedo che anche le serie che vanno per la maggiore sono molto spesso belle e cruente nelle scene o nell'escrizione e questo mi fa pensare che ci sia stata appunto un immaginario collettivo che si è un po' formato su questa scena insomma forti ecco che una volta erano molto più limitate e andavamo preparati a vedere un film di Dario Argento insomma quando... Green ed Education sembrano essere il presente futuro del vostro gruppo, come direbbero in America what's next? Next, noi siamo molto impegnati nel diciamo dalla parte del business nella realizzazione ora di contenuti globali dall'Italia ma non necessariamente cartoni animati che siamo riusciti già da diversi anni nell'impresa ma per quanto riguarda appunto i prodotti per adulti con attori che è sicuramente una sfida anche questa molto interessante perché non sono tanti produttori degli prodotti italiani che riescono ad avere successo nel mondo quindi ci piacerebbe un po' importare la visione, il metodo che abbiamo avuto per rendere i cartoni che sono sicuramente più esportabili per natura però poi se non ci sono riusciti altri produttori italiani a esportarli come abbiamo fatto noi ci sarà un motivo perché secondo me è da cercare nel metodo, nel contenuto, nella ricerca stessa e quindi con questo approccio stiamo cercando come Rainbow e come Colorado Film di avere un'attenzione particolare per contenuti che siano film o che siano serie tv prodotti dall'Italia ma con un appeal internazionale se ci riusciamo saremmo molto soddisfatti quindi se ho colto una possibile soluzione appunto alle carenze del nostro sistema sarebbe una sorta di casa ovviamente di cuore italiano ma anche europea un grande polo perché no iniziato appunto da voi e con voi bisogna che qui però gira un po' una convergenza astrale di tutto il sistema da quello politico che comunque non ha mai dato segnali di avere un problema fino adesso con il fatto che l'Italia è l'unico paese dove non ci sono almeno uno due grossi gruppi che sviluppano contenuti e li esportano in tutto il mondo aziende intendo da qualche centinaia di milioni di fatturato se non un billion e che sono in Germania in Inghilterra in Francia ce ne sono più di una per ogni paese in Italia invece come si arriva a una size molto più piccola comunque media diciamo così sono state spesso acquisite da questi aggregatori stranieri appunto ecco quindi diciamo che dalla politica alle milioni di produttori a tutto il sistema diciamo ci deve essere questa questa volontà perché altrimenti si fa sempre fatica a fare tutto da soli e avere tra l'altro chi nel mondo appunto della politica non ci aiuta con leggi come ci sono in Francia dove per esempio le piattaforme sono costrette ad investire un tot del loro fatturato in prodotto francese che hanno un massimo una limitazione dei diritti limitata a tre anni insomma tutta una serie di protezioni che sono a favore dei produttori indipendenti francesi che hanno creato un'industria molto florida e perché no immaginare a partire dalla vostra Liberi Reggio Monte International School con un metodo così illuminato così come lei ha fatto luce con i suoi disegni sino ad oggi che diventi sistema o faccia sistema in Italia ed altrove perché proprio i futuri diciamo gli adulti del domani crescano con un modo diverso e più evoluto Guardi io penso che sarebbe quasi un miracolo se questo avvenisse perché significa che a livello anche di classe dirigente di classe politica ci siano dei visionari, dei sognatori, delle persone che abbiano a cuore la società di domani e che quindi possano credere che tra l'altro un'iniziativa privata possa essere diffusa anche a livello pubblico come dire no? o comunque supportata a livello pubblico molto spesso purtroppo questo non avviene e noi rimaniamo solo delle gocce nell'oceano degli esempi virtuosi di chi investe in proprio per creare delle eccellenze sparse a macchia in tutta Italia perciò diciamo che non sono molto ottimista che si possa fare però sarebbe bellissimo sicuramente se si potesse dialogare con il Ministero della Pubblica Istruzione e parlare di questo e avere la possibilità di mettere a disposizione questo metodo anche a livello nazionale Lei che è riuscito e riesce a fare sognare milioni di bimbi e anche grandi, cresciuti ha mai sognato le sue wings? Le ha viste in sogno? Le sogna? Probabilmente qualche volta mi sarà capitato in questi 18, 19, 20 ormai più anni da quando abbiamo iniziato a produrle perché poi sono in tv usa 19 anni a gennaio quindi però noi sono più di 20 anni che ci lavoriamo e mi sembra che se un paio di volte mi sia capitato anche di sognare qualcosa in cui c'erano le wings Allora in attesa dei prossimi suoi sogni e speriamo visioni che si facciano realtà, grazie Grazie a voi